Due punti per continuare a sperare nella post-season va alla PPC Casino, infatti il match contro la Stella Azzurra Viterbo valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Una gara comandata a lungo dai cassinati che solo nel finale hanno dovuto rintuzzare il tentativo di rimonta degli ospiti. Il match si è concluso 86-75 per la Virtus che con questa vittoria sale a quota 18 punti in classifica e continua dunque a cullare il sogno play-off. Alla gara erano arrivate due formazioni che in settimana per motivi differenti avevano molto fatto parlare di loro, Casino per il mercato, Viterbo per il cambio in panchina, Fanciullo per Cipriani. Pronti e via ed i ragazzi di Vettese hanno subito un buon approccio al match. Nei primi tre parziali comandano abbastanza agevolmente le danze, il primo lo chiudono in vantaggio sul 26-15 al riposo lungo, Casino ancora in avanti sul 47-36. Il canovaccio del match è simile anche nel terzo periodo con la BPC ancora a primeggiare sul 65-53. Il meglio di sé però, la gara, lo offre nell'ultima frazione con Viterbo sotto 12 punti che prova a rientrare e pian piano accorcia. Gli ospiti rosichiano punti, toccano prima il meno 8 e poi il meno 3. Casino a questo punto prova a rintuzzare gli attacchi e tenta un nuovo allungo, ma Viterbo sembra avere davvero sette vite e riesce quasi a raddrizzare il match arrivando addirittura al meno uno del 74-73. A questo punto però la Virtus ha il merito di non crollare psicologicamente, anzi trascinata dai suoi uomini, ricomincia a macinare gioco piazzando canistri che ridanno tranquillità alla squadra. Alla fine la BPC scappa via definitivamente e chiude in avanti di 11 lunghezze, due punti che rappresentano dunque un ottimo viatico in vista della trasferta sul campo della Sella Sura Roma che è in piena lotta per non retrocedere.